Il nuovo codice della strada lo aspettavamo, ne abbiamo già discusso altre volte, ma adesso esiste, oltre a prevedere una stretta perché guida ubriaco col cellulare, introduce molte novità, soprattutto per autovelox e neopatentati, due temi caldi. Il testo ora passa all'esame del Senato, dopo l'approvazione della Camera, che ha confermato la sospensione della patente per chi usa il telefonino, altra novità, e ha provato anche il decreto, dicevo, autovelox. Allora, è obbligo richiamare tra di noi, nelle nostre fila, chi rappresenta più di tutti il mondo delle vittime e degli infortuni della strada, e quindi la dottoressa Manuela Barbarossa, che è presidente appunto dell'Associazione Italiana Vittime e i Fortuni della Strada, psicoanalista e psicoterapeuta, ma si accompagna con il legale vicepresidente di Aivis, che è l'avvocato Giuseppe Bellanca. Entrambe le personalità già le conosciamo, nella nostra piattaforma hanno già fatto capolino, era obbligo richiamarle in questo momento, che è topico per parlare, questo è il tema del nuovo codice della strada. Diamo via la sigla, poi gli ospiti saranno con noi. Allora, saluto i miei ospiti, è un piacere avervi tra di noi. Grazie. Vediamo la presidente e il vicepresidente, non ho sbagliato, vero, è vicepresidente dell'avvocato Bellanca. Il tema è molto caldo, anche perché ha creato anche delle polemiche non di poco conto. Ma io darei subito la parola alla presidente Barbarossa, proprio perché ci introduca. Visto che ci sono giudizi contrastanti sul nuovo codice della strada. Presidente, quale giudizio esprime lei? Ed è la introduzione alle tante altre domande che poi faremo. Ma intanto esprimo il giudizio che se si è sentita l'esigenza di elaborare un nuovo codice della strada è perché evidentemente c'è un problema, perché se quello precedente fosse stato adeguato non ci sarebbe stata necessità di introdurre così tante differenze, così tante novità. Evidentemente c'è innanzitutto una presa di coscienza maggiore della pericolosità e del problema delle vittime della strada e dell'incidentalità stradale. E questo va bene. Però come mi è già capitato di dire in altre occasioni, che evidentemente il fare fino ad oggi non è servito, non è stato utile, perché se io agisco ma non vedo dei risultati evidentemente è perché il mio agire non è stato corretto, non ha prodotto dei risultati. E quindi ci ritroviamo a elaborare questo nuovo codice della strada che in un certo senso stigmatizza il fatto che ancora non sono state fatte azioni che sono andate nella direzione di raggiungere un buon risultato sulla sicurezza stradale. Quindi non so se mi sono spiegata. Ecco, quindi anche tutte queste nuove introduzioni che sono state fatte, che poi adesso ne parleremo, producono delle polemiche, però già la prima polemica che l'Associazione AIB si introduce è proprio questa. La necessità di stringere ancora di più i cardini, di inserire delle nuove norme ovviamente di natura restrittiva, dimostra che tutto quello che è stato fatto prima non ha prodotto molto probabilmente ciò che noi tutti ci aspettavamo, cioè semplicemente una maggior sicurezza stradale che non è poco. Abbiamo capito perfettamente il punto di vista quindi della Presidente e quindi dell'Associazione. Avvocato Bellanca, tra i principali interventi di questo decreto legge c'è l'inasprimento delle misure punitive per chi si mette a volante sotto l'effetto di alcol e droghe, ma anche per chi guida distratto da smartphone o altri dispositivi. La domanda racchiude il tema, quindi lo congloba. Questo inasprimento secondo lei è positivo? Allora, l'inasprimento è sicuramente positivo perché è finalizzato a debellare e vietare dei comportamenti scorretti. Ricordiamo che la maggior parte degli incidenti stradali si verifica a causa non solo dell'alta velocità, ma a causa della distrazione, il mancato rispetto delle regole. Mettersi alla guida con il cellulare a una determinata velocità, a 100 km all'ora, guardando il cellulare vuol dire fare 400 metri in due secondi senza accorgersi di quello che succede. E questo è gravissimo. Dunque è necessario assolutamente inasprimento quelle che sono le regole e rispetto naturalmente di tutta una serie di limiti, il limite naturalmente delle velocità, il limite dell'alcol, il limite dell'uso del cellulare alla guida, l'esprimento delle sanzioni perché guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o supera ad esempio l'intersezione semaforica con il rosso o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma quello che noi ci stiamo battendo come associazione e continuiamo a dire è fondamentale maggiori controlli sulle strade perché una buona riforma del codice della strada rischia di rimanere lettera morta. La nostra Presidente quando è stata convocata in commissione giù alla Camera dei Deputati, in commissione bilaterale, ha sollevato queste eccezioni, vale a dire noi abbiamo un quarto dei controlli a parità di numero degli operanti, dunque degli agenti polizia o carabinieri sulle strade o polizia locale, un quarto dei controlli rispetto ai nostri cuttini francesi. Questo non è concepibile perché se noi abbiamo un quarto dei controlli vuol dire che qualcosa non ha funzionato. E' permesso nella situazione generale di aggiungere questo. Se noi abbiamo l'obbligo per i comuni del 50% delle sanzioni appunto a delegare alla sicurezza stradale, perché queste risorse non vengono utilizzate proprio per gli uomini, per i mezzi, per gli strumenti? Era una domanda che molti si stanno facendo. Allora, alla Presidente, si è innescata quasi una polemica, mi piacerebbe chiamarla generazionale, tra il partito degli automobilisti e quello della mobilità, che ormai si addensa subito, si congloba nell'aggettivo sostenibile, sul tema scottante da non trascurare, nelle nostre puntate precedenti l'abbiamo toccato, di bici e monopattini con un auspicato aumento delle piste ciclabili. Lo si continua a dire, voi lo dite in modo particolare, è l'obbligo per gli automobilisti di mantenere un metro e mezzo di distanza, ma anche l'obbligo della targa, del casco, dell'assicurazione per i monopattini, ma non per le bici. Ecco, vorrei proprio un giudizio della Presidente su questo insieme di aspetti. Ma già il concetto di sostenibile è un concetto che si contrappone, è un concetto conflittuale secondo me, perché purtroppo la strada sta diventando non solo sicuramente un conflitto generazionale, ma io dico proprio un conflitto, un ambito di conflitto che non andrebbe assolutamente stimolato. Il fatto di parlare di mobilità sostenibile presuppone che l'altra, quell'altra mobilità sia insostenibile e questo non va bene, cioè non va bene nel senso che siamo in un'epoca storica in cui dobbiamo difendere il diritto tutti di muoverci e di muoverci in sicurezza. Quindi siamo tutti pedoni innanzitutto e questo non dobbiamo dimenticarcelo, però non è che siamo tutti automobilisti o ciclisti o utilizziamo il monopattino. Bisogna avere rispetto assoluto di tutti i metodi di trasporto nel momento in cui questi metodi di trasporto coincidono con la propria essenza che è quella di muoversi e non di arrecare danno a se stessi o agli altri, ma quelli di muoversi. Quindi tutta la mobilità deve diventare sostenibile per noi. Questo deve essere chiaro, quindi bisogna andare oltre, andare al di là della conflittualità per cui io mi reputo, come dire, anima bella perché mi muovo in un certo modo, mentre tu... Anche questo accanimento contro gli automobilisti non va bene perché va a creare conflittualità, ma gli automobilisti stessi poi si accaniscono contro i ciclisti, l'abbiamo visto, perché dicono che non hanno regole. Insomma, bisogna andare oltre la conflittualità e trovare una modalità di muoverci tutti nel rispetto della propria vita e nel rispetto della vita altrui. Mi sembra un concetto di etica di base che è poi, voglio dire, quello che noi chiamiamo consapevolezza e che su questa consapevolezza siamo stati per esempio più recentemente in una scuola davanti a 300 studenti dove la parola d'ordine che noi abbiamo portato avanti è proprio questa consapevolezza e no alla conflittualità su strada. Allora, avvocato, torno a lei perché non possiamo dimenticarci della polemica accesissima sulle novità in tema di autovelox. E' inutile che stiamo qua a ricordare che cos'è il nostro recente passato alle spalle sul tema autovelox e non soltanto, nel mio Veneto un poco dappertutto. Nel caso in cui si prendano più multe nello stesso tratto stradale attenzione, amiche e amici in un periodo di tempo di un'ora e di competenza dello stesso ente si paga una sola sanzione giusto, avvocato? E' così, vero? Esatto, esattissima. Quella più grave aumentata di un terzo. Quindi, allora, perché la polemica? Perché gli autovelox saranno vietati sotto i 50 all'ora in città nelle strade urbane dette zone a 30 all'ora poi vedremo anche questo argomento altro tema di polemica e nelle strade estrourbane sotto i 90 all'ora. Insomma, secondo me si è fatta una gran confusione su un tema che abbiamo capito essere al centro dell'attenzione della gente degli automobilisti in modo particolare evidentemente e mi pare che non si sia fatta chiarezza su questo argomento. Qual è il suo parere, avvocato? Allora, noi diciamo sempre che gli autovelox sono necessari e fondamentali come elemento di prevenzione degli incidenti non per far cassa. Dunque, gli autovelox devono essere chiari, posizionati, visibili, eccetera. Le norme esistevano solo che nella regolamentazione anche comunale, locale ogni comune li utilizzava in maniera appunto assurda. È un dato di fatto, è un dato di fatto, bisogna dirlo. E proprio l'intervento del nuovo codice della strada cerca di regolamentare, disciplinare in maniera uniforme appunto su tutto il territorio nazionale e razionalizzare appunto l'utilizzo degli autovelox, ad esempio l'obbligo di un'omologazione nazionale uniforme su tutto il territorio. Dunque, noi siamo contrari all'utilizzo strumentale degli autovelox finalizzato solo a far cassa, appunto. Non ha nessuna utilità se non quella di aumentare gli incroiti comunali. Anche a danno degli stessi utenti. Questo è importante da sottolineare perché se io non vedo in tempo o vedo all'ultimo secondo frenando repentinamente per evitare la multa rischio di compromettere la stabilità e la sicurezza non solo mia ma anche dei terzi. Questo ricordiamolo è importantissimo. Dunque, siamo favorevoli a un'organizzazione sicuramente un po' pasticciata dovrà essere rivista in con delle circolari ministeriali Assolutamente, certo. Però l'idea che noi abbiamo portato avanti poi ripresa non brillantemente purtroppo, eccetera però ma con buona volontà del Ministero naturalmente è positiva da questo punto di vista. E Avvocato, perdonami voglio porvi altre domande. Allora, abbiamo capito il tema però lo innesco anche nel secco no che è stato dato alle aree urbane a 30 km orari. Ora, tra le tante interviste che noi abbiamo fatto propedeutiche a questo vostro incontro io ricordo un'intervista a un amico carissimo un collega del Corriere della Sera che ha visto il figlio falcidiato su un marciapiede e che stava portando sta portando avanti serissimamente la battaglia dei 30 km all'ora nei centri urbani. Questo secco no che cosa vi fa dire? Chiedo... Parli tu Giuseppe, sì. No, no, no prima Presidente su questo tema è importante. No, no, no Presidente. No, allora noi dobbiamo partire dal concetto che come diceva anche l'Avvocato la maggior parte degli incidenti avviene in città e la maggior parte degli incidenti è ovvio che viene prodotta dalle auto e da voglio dire tutti i mezzi su strada che corrono per cui la velocità assolutamente è come dire una delle cause che produce incidenti gravi e gravissimi in città certamente la velocità va diminuita ma perché va diminuita? Perché anche laddove in città ci sono comunque dei cartelli che limitano la velocità nessuno rispetta quindi ritorniamo al concetto laddove anche c'è un limite a 50 all'ora faccio un esempio se lei se noi andiamo a 50 all'ora ci troviamo dietro tutti che ci suonano perché stiamo andando ad agio a me capita spesso e volentieri quindi cosa vuol dire in alcune aree della città assolutamente io sono d'accordissimo e l'associazione è d'accordo sui 30 all'ora assolutamente ci sono aree che esigono i 30 all'ora ma mi permetto di dire che chi guida un'auto un camion una moto già dovrebbe arrivarci da solo quando passa davanti a una scuola ad esempio non è così non è così e questa è la cosa gravissima che non è così che dobbiamo ancora lavorare sulle coscienze dobbiamo ancora lavorare sulla cultura che dobbiamo portare avanti questo il DDL non ne parla ovviamente però è terribile pensare che non ci arriviamo da soli nel 2024 soffermiamoci su questo a rifletterci un attimo è terribile che di fronte alle scuole la gente sfreccia in macchina in moto magari anche con dei camion a velocità pazzesche o in strade dove c'è una densità di popolazione molto alta con pedoni o dove ci sono le piste ciclabili anche o dove sfrecciano monopattini cioè voglio dire non dobbiamo dimenticarci comunque che mettere i 30 all'ora può essere in alcune zone della città sicuramente un salvavita assolutamente sì il tema su cui credo che tutti ci si trovi d'accordo è quello dei cellulari chi guida quel cellulare multe più salate controlli più severi ecco ce lo si aspettava era già stato preannunciato e mi pare che su questo tutti siamo d'accordo avvocato lei che dice sì era il minimo uno degli elementi di distrazione principali è l'utilizzo del cellulare ce ne accorgiamo tutti o camminando da strada a piedi ma anche andando in macchina di persone che utilizzano appunto il cellulare come se fossero nel loro ufficio per mandare email mandare messaggi quasi mi permetto di dire ti scrivesse il presidente della repubblica per cui devi rispondere immediatamente no devono essere inventati non solo l'inaspiramento delle sanzioni che è intelligente e utile e fondamentale accompagnato come continuiamo a dire dai controlli ma ancora più importante è l'introduzione di strumenti tecnici e non credo che le industrie tecnologiche o automobilistiche non abbiano gli strumenti per vietare l'utilizzo dei cellulari a parte la risposta della telefonata o la ricezione della telefonata quando tu sei alla guida appunto devono essere fatti dei passi avanti ma esistono già altre strumentazioni tecnologiche per cui quando entri in auto tu puoi solo o telefonare non staccando le mani dal volante e rispondere eventualmente questo è l'unica cosa che dovrebbe essere avvocato sanzioni severe erano d'obbligo perché si si è fondamentale noi ci siamo battuti per questo dobbiamo continuare si 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 allora Manuela io vorrei che lei commentasse invece una notizia anche da psicoterapeuta anche da psicoanalista no su una parte di questo decreto che non voglio venga trascurata l'abbandono degli animali domestici perché per chi abbandona un animale per strada sanzioni molto importanti chi lascerà per strada qualsiasi animale rischia fino a sette anni di carcere nel caso in cui esso dovesse provocare tra l'altro un incidente stradale quindi ecco l'abbandono di animali domestici una c'è stato chi ha pensato a questa sacrosanta regola che va assolutamente rispettata lei che dice ma io dico che l'Aivis ha portato avanti proprio questa battaglia a parte l'anima animalista e antispecista antispecista che è un passo in avanti rispetto all'animalismo dell'associazione vittime della strada oltre che la mia posizione personale che ha voluto proprio introdurre all'interno dell'associazione quindi noi sin dall'inizio abbiamo cercato di tutelare anche gli animali non umani questo è il concetto antispecista altro che altro che sanzioni a parte la vergogna che queste persone dovrebbero provare nell'abbandonare i propri animali che è veramente un sentimento che andrebbe rivalutato e che forse riprovare vergogna ci potrebbe aiutare a essere migliori e a vivere anche oltre a questo benvenga super sanzioni a chi abbandona gli animali anche per il pericolo ovviamente che viene qui partiamo sul discorso incidenti stradali siamo noi che abbiamo portato avanti questa battaglia noi siamo stati invitati fra le varie associazioni all'incontro con il ministro Saldini prima dell'elaborazione del DDL e uno dei nostri temi è stato proprio questo e ci fa molto piacere che sia stato recepito quindi da un punto di vista mio di psicanalista emotivo al massimo dico vergogna a chi abbandona gli animali e come presidente dell'Aibis dico sanzioni gravissime va bene bravissime grazie per questa domanda felice di aver avuto la risposta che abbiamo avuto sono spariti entrambi i miei ospiti speriamo che riappaiano perché era arrivato il momento del congedo ricordo che intanto ecco la presidente è riapparsa mi hanno oscurato la salutiamo stavo dicendo Manuela che c'è ancora tempo prima che il provvedimento diventi legge prima che il testo deve passare attraverso l'esame tra l'altro anche della commissione trasporti e poi c'è il voto finale del senato e quindi probabilmente qualche decreto attuativo entrerà anche nel merito poi di alcune modifiche da fare saluto allora a questo punto felicissimo di averli avuti entrambi ospiti perché hanno dato un contributo non soltanto rispetto alle informazioni che sono sempre il sale delle nostre pubblicazioni ma anche hanno dato un senso con le riflessioni che abbiamo fatto con noi Manuela Barbarossa presidente dell'Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada psicoanalista e psicoterapeuta e il vice presidente l'avvocato Giuseppe Bellanca vi ringrazio come sempre spero prima o dopo di interpellare l'uno e l'altro per altri versi una perché è una psicoanalista e l'altro perché è un avvocato verrà pure il momento e allora ci si divertirà a spaziare su altri orizzonti e per altri percorsi che non siano solo quelli il tempo di Dio è perfetto quindi come si suol dire quindi sicuramente avremo questa occasione grazie infinite allora buona serata entrambi e buon lavoro all'Associazione a presto arrivederci grazie buona sera grazie